Boccioni nel 1912 si cimentò nella scultura. Nel 1913 iniziò ad esporre da solo e il suo egocentrismo lo isolò dagli altri artisti. Iniziarono le crisi depressive di Boccioni. Il 15 settembre 1914 Boccioni e i suoi amici fecero irruzione al teatro dal verme di Milano distruggendo una bandiera austriaca e furono arrestati, ma li lasciati subito.